E salvi a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Salotto di Granelli in compagnia di Giovanni Scotti. Ciao Giovanni, come stai? Bene, grazie. Sono molto felice di averti qui, tu sei un giovane attore ormai già navigato perché hai fatto già tantissime cose, tra cui Equalizer 3, si dice così, Lamborghini, mi sei anche laureato in lettere, io ho svariati appunti sparsi, le indagini di Llorida Lobosco, Marefuori, Filomena Marturano dove facevi uno dei tre figli insieme a Massimiliano Cagliazzo. Esatto, Francesco Russo. Sei preparato? E ultimamente mi hai fatto un ruolo molto importante in Campo di Battaglia, che è un film che è uscito al cinema il 5 settembre con Alessandro Borghi, un film molto importante in concorso alla mostra del cinema di Venezia, se ne è parlato tanto, è incassato anche tanto al botteghino, tratto da un romanzo, ma è tratto da una storia vera, io questo non l'ho mai capito. No, cioè, che io sappia no, Gianni è partito dal romanzo e poi si è fatto ispirare dalla storia che voleva raccontare. Però diciamo che sicuramente c'è tanta verità in questo film. Assolutamente. Contesto prima guerra mondiale, tu sei un soldato praticamente, giusto? Iniziamo male? Esattamente, no, sono un soldato napoletano, guardo in camera così, bravo, sì. Sono un soldato siciliano, cioè un mio carissimo amico Vincenzo Vivenzio che fa il soldato napoletano, invece no, nonostante io sia di Napoli ho fatto il soldato siciliano, Vincenzo Tummino, chi ha visto il film sa che questo nome ha un'importanza molto grande, anche proprio all'interno della storia del mio personaggio. Sì, perché tu hai un ruolo veramente di spicco, notevole, perché insomma ha tutto un climax, ha tutta un'evoluzione molto drammatica. Vero. Non entriamo nel dettaglio. Vero, senza spoiler. Senza spoiler. Sì, è una storia che diventa un po' il simbolo della vita di questi soldati, della delusione che hanno quando vanno in guerra e scoprono che la guerra, cos'è la guerra, perché loro vanno lì senza sapere in realtà cosa incontreranno, l'inferno, e quindi pur di andare via dall'inferno sono disposti a tutto, e sono delle vittime, come tutte le persone che non sanno veramente in che macchina sono stati coinvolti. E in questo caso si tratta di una macchina spietata che li usa e usa la loro vita senza pietà. Com'è stato per te essere coinvolto in questo progetto? Ricordiamo del regista Gianni Amelio, che aveva avuto un notevole successo due anni fa con Il Signore delle Mosche, altro capolavoro, delle Formiche, altro capolavoro. Com'è stato appunto, cioè insomma, un ruolo di spicco, un film che comunque era già sulla carta, un film importante? Come ti sei sentito? Vabbè, diciamo per me è stato un sogno che si realizza. È bellissimo fare cinema ed è meravigliosamente bello con un regista come Gianni. Che ha di particolare Gianni? Gianni ha di particolare che tutto quello che racconta per lui è questione di vita o di morte. È tutto molto necessario, è tutto molto urgente ed è tutto con un'intenzione. Cioè nulla di quello che vedrete nel film è casuale, Gianni è maniacale nella scelta di ogni dettaglio. Infatti secondo me nel film veramente gli attori sono tutti bravissimi, sia perché gli attori che ha scelto sono bravi, e questa è anche una capacità secondo me importantissima di un regista, avere un intuito sulle persone che poi racconteranno questa storia insieme a te. E poi perché lui effettivamente cura i dettagli di tutto, della recitazione, delle scenografie, dei costumi, ogni cosa veramente è molto molto pesata e ha un senso. E quindi far parte di qualcosa che ha senso, che ha importanza, è sempre qualcosa di molto bello. E quando poi ho visto il film ho capito anche perché. Cioè è un film che puoi riguardare tante volte e trovare ogni volta dei dettagli nuovi. perché ci sono diversi livelli che lui ha seminato qui e lì, che naturalmente ha una prima visione, non puoi percepire perché ti arriva la storia generale. Tra l'altro storia che in realtà purtroppo è attualissima, perché in realtà siamo anche oggi all'interno di due conflitti drammaticissimi e veramente riviviamo un po' quell'incertezza, quell'incognita che si viveva negli anni venti di un secolo fa. Cioè è una cosa assurda, capito? Vero. E noi pensavamo, ma chissà cosa hanno pensato. Evidentemente non pensavano nulla come non stiamo pensando nulla a noi oggi. Cioè lo sconcerto totale. Anzi, noi forse siamo più informati di loro. Tra l'altro, vero. Però nonostante questo, diciamo, non basta a indignarci e veramente a fare una presa di posizione. Secondo me questo è il motivo per cui il film di Gianni è molto necessario, perché parlare di guerra è molto importante, perché anche se noi non siamo direttamente impegnati in un conflitto, la guerra ci riguarda come esseri umani. e ci riguarda perché uno potrebbe in un momento riguardarci direttamente, ma poi anche l'indifferenza è parte della guerra. Noi abbiamo visto, tutti quanti abbiamo studiato la storia, le parole di chi è testimone ce l'hanno insegnato, le persone che stanno lì a guardare sono i veri carnefici poi. Non voglio rendere le cose troppo drammatiche, però quantomeno farsi le domande oggi, che abbiamo tutti i mezzi a disposizione, penso sia proprio il minimo. Questo è il laureato in lettere che sta parlando. E sei anche pronto per la docenza, mi verrebbe da dire. Va bene, non esageriamo. Come ti è venuto di scriverti a lettere? Quali erano i tuoi sogni quando eri ragazzino, quando hai finito la scuola, insomma, il liceo? Che cosa sognavi di fare da grande? No, io ho sempre voluto fare l'attore, su questo non c'è nessun dubbio. Da che età? Da sempre, non me lo ricordo mai. Qui emerge il napoletano docente. Da sempre. Quando ero piccolo al liceo, no al liceo, quando ero piccolo proprio all'elementari, all'intervallo, io invece di giocare a pallone organizzavo degli spettacolini, quindi è proprio una cosa vecchissima. Poi in realtà ho cominciato con la musica perché ho cominciato a suonare il pianoforte a sei anni. È vero perché tu mi sei anche laureato in pianoforte. E ho continuato questo studio del pianoforte fino a 25 anni quando poi mi sono laureato. Però in realtà ho sempre anche fatto l'attore, ho sempre continuato a studiare teatro. Perché mi sono laureato in lettere? Perché i miei non la pensavano come me, anzi mio padre, devo dire. Mia mamma, come tutte le mamme, c'è anche mia sorella. Eppure lei è un artista, sì. Noi gli avete dato soddisfazione a sto papà. Mamma è sempre la mamma e siamo stati, mia sorella, molto fortunata di avere il supporto di mamma. Papà è stato un po' più un ostacolo, però anche quello in qualche modo ci ha forgiato perché mi ha dato la spinta anche per dimostrare che invece io ce la potevo fare. E quindi ho studiato due volte tanto per poter riuscire a... Perché comunque hai finito anche un percorso di studi che è... Sì, sì, esatto. Ho fatto, ecco, fatto lettere perché comunque i miei... Mio padre in particolare ci teneva che io... Ti laureassi. Mi laureassi. E quindi ho anche iniziato, ho fatto sei mesi di giurisprudenza. Fortunatamente ho cambiato presto idea perché quello proprio non aveva niente a che fare con me. E ho scelto una volta che comunque era nelle mie corde, comunque una grande passione, al punto tale che veramente avrei potuto fare anche quello. Però la mia scelta era molto chiara. Diciamo che eri sempre indirizzato su quello. E sei riuscito poi a... Cioè, e come... Sei riuscito perché sei arrivato qui. Ma come hai trovato la forza di reagire a un padre? Perché comunque non è semplicissimo, soprattutto quando si parla di una famiglia unita, quando si parla comunque di una famiglia presente, perché immagino che il tuo padre sia sempre stato presente nella tua vita da come me ne stai parlando. Certo, perché mi ha sostenuto. E quindi andargli contro non deve essere facile. Tu come ci sei riuscito? Come hai trovato la forza? E quali sono proprio concretamente i passi che hai intrapreso per creare la tua carriera d'attore? Guarda, io non mi sono mai andato direttamente contro. Non sono stato un figlio molto ribelle esplicitamente, perché poi alla fine, vedi, mi sono laureato, ho preso due lauree e comunque l'ho fatto per dare soddisfazione molto anche a mio padre. A tuo padre, a tua madre? A mio padre, a mia mamma, anche ai miei genitori entrambi. Però è come mi sono fatto... Ho sempre avuto un istinto che ho seguito in realtà e non ho permesso a nessuno di impedirmi di fare quello che veramente amavo di fare. Cioè sono sceso a compromessi. Ecco, poi a un certo punto quando mi sono preso le lauree ho detto ok, mo basta. Mi dedico completamente a questo. Mo siamo tutti felici, adesso la vita è mia. E qual è stato il primo passo? Sono andato via di casa. E sei venuto a Roma? E sei venuto a Roma, sì. Mi sono laureato a 25 anni e a 25 anni e mezzo sono andato via a casa. Sono venuto a Roma, che poi era una città che già frequentavo, perché mia sorella viveva anche qua. Comunque per i provini, i lavori. Ma è attrice anche tua sorella? No, mia sorella è una ballerina. Ah, ok. E quindi praticamente è una città che già frequentavo. Mi sono sentito come di tornare in una seconda casa, ecco. Però devo dire è stato bellissimo. Io sono molto felice a Roma, è una città che amo. E non hai mai avuto difficoltà, diciamo, a... Non lo so, hai iniziato con lo studio o già hai iniziato procacciandoti provini, ruoli? No, io avevo un agente. Ho cominciato a lavorare, diciamo, in televisione e in cinema abbastanza presto. Presto? A vent'anni. Ah, perché hai fatto un sacco di cose. Quindi già lavoravo. Mentre facevo l'università al conservatore io già avevo una discreta esperienza. Quindi l'agente te lo sei portato da Napoli? No, l'agente stava a Roma. Ah, stava già a Roma. Sì, 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 sì. Facevo teatro. Io ho cominciato col teatro quando ero adolescente, 15-16 anni. Compagnia teatrale. Sì, a Napoli, laboratori. Napoli, devo dire, questa è una cosa che mi ha molto dato. Perché se sei giovane e hai la passione per la recitazione, a Napoli si fa teatro. Ed è una cosa molto bella. Ma i napoletani sono tutti attori. Ci abbiamo qualcosa nel DNA, però poi la recitazione è molto alta. In ogni caso Napoli mi ha dato tantissimo. Recitavo a teatro, poi a vent'anni, sai, cercano sempre i napoletani. Questo è un po' vero. Napoli è cresciuta a livello cinematografico televisivo. Soprattutto in questo periodo, sì. E quindi cercavano anche attori nei laboratori teatrali. E io ho fatto i primi provini così, sono stato preso, ho trovato un agente e poi ho continuato a fare, sì. E c'è stato un periodo magari in cui hai lavorato di meno, hai avuto un po' di ansietta, hai avuto qualche ripensamento, oppure sempre dritto per la tua strada? Sì, tanti. No, sono stato sempre dritto, ma i momenti di insicurezza sono tantissimi. Perché ho lavorato abbastanza costantemente, però ci sono stati anche un paio d'anni in cui i provini non riuscivo a prenderli. Ne facevo di meno. Sai, è un mestiere che va anche molto adondate. I cambiamenti della tua vita influiscono molto. E come hai affrontato quel periodo? Fortunatamente, diciamo, studiavo. E poi è una cosa che io faccio comunque costantemente anche adesso. Per me non esiste un momento in cui io sono fermo. Cioè studio comunque costantemente anche mentre lavoro, perché non lo considero un'attività secondaria. Per me fa parte della... Siccome vengo dalla musica e ho sempre studiato, mi sono... So che un pianista per esibirsi deve lavorare tutti i giorni. Vengo da quel tipo di approccio lì. E per me l'attore è un atleta esattamente come un musicista. Deve tutti i giorni allenarsi e tenere lo strumento fresco. E quindi poi può andare in scena come conseguenza di quello studio. Quindi io, diciamo, ho applicato questa cosa nel momento anche in cui ero più incerto. Ero più in ansia. Perché sono tanti momenti così. Ho continuato a studiare e ho avuto fede. E bisogna sempre avere fede in questo mestiere. E tutt'oggi è così. Perché poi bisogna sempre avere fede che questo lavoro non sia l'ultimo. Che ci saranno altri progetti e che riusci... Soprattutto quando poi ti stacchi dalla famiglia è così. E certo. Poi si cresce. E infatti questo ti volevo chiedere. E adesso? Stai avendo fede o stai lavorando? No, adesso sono in preparazione per nuovi progetti. Diciamo, le cose continuano. Il cinema alla TV si può dire almeno questo? Serie? Serie. Ok. Italiana? Italiana. Non mi parli di altro. Tu mi hai lavorato anche all'estero. Mi hai fatto The Alien... Oddio, dimmelo tu. The Alienist. The Alienist, esatto. Che è una serie pazzesca su Netflix anglo-americana. Sì. Ah, esatto. Una serie americana prodotta dalla Paramount e poi distribuita da Netflix in Europa. E come ci sei capitato? Tu parli anche quindi molto bene l'inglese? Parlo ben inglese, sì. Non madrelingua, diciamo, un buon inglese fluente di un italiano. E ci sono capitato facendo un provino. Semplicemente facendo un provino. Io ho sempre preso così i ruoli. Ed è stata un'esperienza bellissima quella. Certo, perché un altro approccio, proprio un'altra mentalità. Sì. Io devo dire, è una casualità. Avete girato a Londra? No, avevo girato in Ungheria. Ah, in Ungheria. A Budapest. Ok. Era ambientata in Ungheria? Era ambientata nella New York degli anni... Ah, ok, sì, è vero. Io ho visto i primi episodi. Veramente ora me la rivedrò. Però quella serie, diciamo... Era la prima volta che ero in un set così grande. Cioè ogni... C'erano tipo 800 comparse. Era una cosa immensa. E io ero giovane, ero anche alle prime armi come attore. Eri molto giovane, infatti. Avevi appena forse 20 anni. Sì, 21, insomma. È stata un'esperienza che ricordo... Hai conosciuto Luke Evans, parliamo di fatti seri. Sì, sì. Dakota Fanning. La cosa curiosa è che poi ho rincontrato Dakota anche in Equalizer. Ah, è vero. E quindi è stata una specie incredibile... Ma è veramente così brava come Laura Bambina Prodigio. Io mi ricordo tutto quel periodo in cui la guerra dei mondi era... la bambina veramente che faceva qualsiasi cosa. Hai veramente notato ciò oppure è un'attrice come tutte? No, è un'attrice bravissima. Brava, bravissima. Perché se no non farebbe la carriera che fa. E, diciamo, è anche una persona che è sempre molto presente. Perché quando poi abbiamo parlato anche su Equalizer, lei si ricordava perfettamente di me. E non è una cosa scontata perché comunque era successo svariati anni prima. E comunque era un piccolo ruolo che io facevo nella serie. Però era una bella scena che abbiamo girato insieme su Equalizer. Scusate. Tranquillo. Va bene. E lei si ricordava perfettamente di me. Quindi è stato bellissimo poi rivederla anni dopo e dire cavolo siamo di nuovo sullo stesso set. È incredibile. È vero, voglio dire. Non è scontato. È il destino. E questo è il bello comunque anche delle nuove generazioni e degli ultimi anni. Perché appunto soprattutto le piattaforme Netflix creano questo flusso di scambi tra Italia, America, Europa, Spagna e chi più ne ha più ne metta. Tu adesso il prossimo progetto è italiano, abbiamo detto. E invece il pianoforte me l'hai un po' abbandonato oppure continui a suonare? Non lo so, hai il pianoforte qui non credo. Sì, è stata la prima cosa che ho fatto. Che ti sei portato. No, non l'ho portato, l'ho preso in affitto. Ah, vedi? Sì, perché io avevo già una pianola digitale, però per me non è casa se non c'è il pianoforte vero. Quindi sei uno che si mette lì e suona. Meno da quando ho smesso il conservatorio, però è come se io non ne potessi fare a meno. So che se voglio suonare devo poterlo fare. Poi devo dire la verità, da quando ho finito il conservatorio è stata un'esperienza talmente enorme nella mia vita che ho avuto bisogno anche di un attimo di distacco. però è sempre lì, mi guarda da lontano e dice perché non studi? Ah, perché pure lì devi studiare. Certo. Mamma mia che ansia, anche dopo il diploma, anche dopo che ti sarò reato. Sempre, non si finisce mai. Mamma mia. E io sono molto disciplinato per via proprio dei miei studi, del conservatorio, molto della musica viene da là. Cioè il sapere che se tu lavori avrai un risultato certo, se non lavori ti prendi quello che viene. Quindi tu sei convinto di questa cosa? Molto. Che se tu ci metti veramente tanto lavoro, tanta concentrazione e poi i risultati arrivano. Sì, ci credo fortemente. Diciamo che è questa la mia fede. La fede che ho io è la fede nella quantità di amore, di passione e di tempo che investi in una cosa. Se tu ti ci dai qualcosa ti ritorna. Magari non è quello che pensavi, però qualcosa torna. E tu adesso hai ancora un ideale da raggiungere, una meta, un traguardo oppure ti stai lasciando diciamo sorprendere dagli eventi e l'importante che fai questo, che è insomma il lavoro dei tuoi sogni? No, io... Hai ancora degli obiettivi ovviamente, non avevo dubbi. Ho ancora degli obiettivi. No, ma perché in effetti io comunque ho appena cominciato. Mi sento veramente all'inizio di un percorso che spero sia il più lungo possibile. Non vorrò fermarmi mai, quindi diciamo c'ho ancora tanti sogni, tante cose da realizzare, tanti progetti nella mia testa e progetti che si concretizzano. Quindi no, gli obiettivi sono ancora tanti. Quindi è un sogno, uno di cui puoi parlare, tanto voglio dire, lo so che sei scaramantico. Io sono molto scaramantico. Come tutti i napoletani, però insomma scaramantia non esiste, quindi diccelo. Poi che la serie porta bene. No, in realtà, ecco, sì, porta bene la serie sicuramente, ti credo. No, perché ho intervistato tanti attori che quando li ho intervistati magari poi dopo sono esplosi, quindi da questo punto di vista porta bene. Certo, sicuramente mi piacerebbe raccontare storie sempre più grandi al cinema, avere responsabilità. Ti piace questo cinema italiano? Lo so che è una domanda un po' a trabocchetto perché se dici no poi magari... Però insomma cerca di essere il più spontaneo possibile. Se ti piace, diciamo, la deriva che sta avendo il cinema, diciamo, anche un po' d'autore, un po' anche un po' lento nel modo di essere colto e poi c'è anche poi il discorso della nicchia degli attori italiani che sono sempre gli stessi, questo è un altro discorso. Ma diciamo, ti piace il cinema italiano? Scusa, l'ho presa un po' alla lontana. Allora, io non sono un critico cinematografico, nel senso io faccio l'attore e non faccio riflessioni sul cinema in generale perché penso di non essere competente abbastanza per fare questo tipo di riflessioni. E questa è onesta intellettuale. Dal mio punto di vista vedo delle cose bellissime, sono un grande fan del cinema europeo, cioè ecco, un altro grande sogno per me è lavorare molto di più a livello proprio europeo, l'anno scorso ho fatto un film olandese che tra pochi giorni esce, è stata un'esperienza bellissima. Anche quello dillo tu perché io non ci riesco a pronunciarlo. Si chiama Tejindradz. Ecco appunto, meno male che non mi sono proprio buttato. E di che parla, se posso chiederti? E' un film che è ambientato, è sempre un film storico, parla degli emigranti italiani degli anni 50 che cercavano appunto una vita migliore andando a lavorare all'estero, ecco in Olanda, in Germania o in America. Bello! In questo caso era la storia di italiani che vanno in Olanda. E quindi no, per dire, tu parlavi di tempi lenti, di dilatazione della storia, questa è una cosa che a me piace moltissimo, che va contro quello che è un po' la necessità commerciale. Quindi tu sei un fruitore di Mubi, di quelle piattaforme. Esatto. Non avevo dubbi. Però ecco, per esempio, il cinema italiano, come tutte le industrie, diciamo, ha delle cose che hanno un valore, un valore, diciamo, maggiore e cose che hanno un valore minore. Rispetto ad altre industrie, secondo me noi facciamo troppo poco cinema. A me piacerebbe che si facesse più cinema. Il punto è che ci sono... Cioè si fa più serialità, dici tu, ci si concentra... Beh, ci sono meno finanziamenti pubblici, c'è un po' di difficoltà in questo momento nel settore proprio cinema, perché mentre la televisione ha modo di sopravvivere meglio e di vivere meglio, invece il cinema ha bisogno di un sostegno pubblico, perché il cinema deve essere sostenuto. Il film lento, che magari piace a dieci persone, non a cento, ha una necessità culturale, ha una necessità evolutiva. Il film di Gianni, secondo me, è un film necessario, a prescindere che sia un film brutto, bello. E quindi tu dici, i produttori privati non investono... Se manca lo stato, il cinema naturalmente si abbassa necessariamente di qualità. E tu lo stai percependo, questo problema? Beh, nel mio piccolo vedo che si fanno molti meno film rispetto a quanti si fanno serie tv, senza disprezzare, perché sono serie tv di altissima qualità e mi auguro che la la qualità nella televisione sia sempre alta, perché questo, diciamo, alza gli standard. Però mi augurerei, siccome sono un grande fan del cinema, più che ancora delle serie, proprio come spettatore, cioè mi piace l'idea di guardare un film che dura due ore e che in due ore mi racconta uno squarcio di vita, anziché non sono un grande fan della serialità, quindi di convivere con lo stesso prodotto molto a lungo. Anche se ora ci sono le miniserie che un po' risolvono. Sì, le miniserie che guardo molto più volentieri. E sono dei film, diciamo, un po' più lunghi. Esatto. Però apprezzo molto il cinema, anche perché mi piace proprio andare in sala. Qualche film che hai visto di recente. Guarda, parlo molto volentieri del film della Come in Cinge, il tempo che ci vuole. L'ho trovato un film bellissimo. Il tempo che ci vuole. Il tempo che ci vuole, si chiama. Non sono perso. E' uscito da pochissimo. Sì, è uscito da poco. Infatti me lo volevo vedere. Proprio per parlare di un film italiano. È vero. Con quella locandina bellissima con lei in copertina. Esatto. Bello, sì, 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 ho capito. Ed è un film bellissimo. Che non è commerciale perché i tempi sono più dilatati, però allo stesso tempo è un film che ti tiene lì attaccato perché c'è talmente tanta vita, è talmente tanto denso ed è talmente tanto universale, nonostante sia biografico, che io sono uscito dal cinema e ho detto mamma, che bello, meno male. E la tua ragazza la pensa come te? Anche sì, assolutamente. Non è che i polpettoni te li vedi tutti tu. Vabbè, lei poi fa altro, ballerina. No, mia sorella è ballerina. Ah, mia sorella è ballerina. Tua ragazza è attrice? No, no, no. Non c'entra niente. No, fa un altro lavoro. Ok. E lei, diciamo, io sono quello pesante della coppia, comunque. Non avevo dubbi. Ho visto questo. È vero, è vero. Salutiamo la fidanzata, insomma. Tanta stima. Sì, è vero. State insieme da molto? Beh, sì, diciamo, abbiamo una storia che ha una sua forza. Solidità. Solidità. Vabbè, quindi da piccoli perché sei ancora un ragazzo. Beh, in effetti sì, da giovani. A Napoli siete conosciuti? Siamo conosciuti a Napoli e poi ci siamo trasferiti, adesso viviamo insieme qui a Roma. Ed è stato colpo di fulmine? È stato destino. Ehi, sì. Non esageriamo. E perché? Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti perché anche lei aveva la passione per la recitazione e nei primi laboratori teatrali ci siamo incontrati e ci siamo conosciuti. E chi ha fatto il primo passo? Vabbè, adesso non entriamo nei... Ehi, già, subito! Lei ha fatto il primo passo. Chissà. Chi può dirlo. Vabbè, comunque ti auguro il meglio sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Allora, l'ultima domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti è quello di lasciare un messaggio nella bottiglia, un consiglio, un suggerimento a tutti coloro che hanno un sogno, una passione, ma che hanno paura di buttarsi fino in fondo o per il giudizio della famiglia, come appunto è stato anche il tuo caso, o per il giudizio degli amici, della società in generale, ma anche proprio degli amici che magari ti dicono, ma dove ti avvii, uno su mille ce la fa, vanno avanti i suoi raccomandati, eccetera, eccetera, fai un lavoro laureati e fai un lavoro più stabile. Tu che cosa ti sentiresti di dire dall'alto della tua esperienza? Allora, diciamo dal basso della mia esperienza. Dalla tua esperienza, che comunque è importante. Anche perché visto dal vivo si capisce che non sono manco alto, quindi... Che poi per un attore non è una cosa negativa, non essere particolarmente alto. No, è un fatto, diciamo... No, perché gli attori troppo alti poi hanno il problema con le ragazze... È vero, vabbè. Vediamo i lati positivi. Esatto. No, che cosa direi? Direi semplicemente di non farsi influenzare, cioè di credere che la passione è una forza, non è un limite, non è un ostacolo. Io ho avuto anche un sacco di persone nella mia vita, anche quando ero più giovane, compagni di scuola, il cui dramma è stato al contrario quello di non avere una passione, di cercare qualcosa che potesse in qualche modo essere la loro vita senza saperlo. E quindi io quello che penso, che l'ho provato anche nella mia vita, è che quando sai che c'è qualcosa che ti infiamma, che ti accende, quello è tutto quello di cui penso si ha bisogno nella vita. E quindi è qualcosa per cui vale la pena combattere, non arrendersi, perché non sai quando sarà quel momento in cui le cose si allineeranno e quando le cose si allineeranno ne sarà balsa la pena. Quindi non arrendersi, mai. Ho notato, magari tu sei stato anche un po' bullizzato, diriso per questa tua passione quando eri piccolo, ho notato questa corda mentre ne parlavi. No, non è successo, cioè non sono mai stato bullizzato per la mia passione, sono stato bullizzato magari per altre cose. Non particolarmente, diciamo, non ho nessuna esperienza che mi ricordo Traumatica. Traumatica, a riguardo, diciamo. Cosa è importante. Però, no, ho vissuto questa cosa per qualche anno come quando ero più piccolo e dovevo fare le scelte importanti della mia vita con paura. E invece, ecco, io quello che vorrei dire è non vi lasciate fermare dalla paura, perché è solamente una barriera da superare, perché poi ci sarà l'amore che vi spinge e che vi farà sopravvivere a tutto. Grazie di cuore, Giovanni. Grazie a te, Luigi. È stato un vero piacere. Vi ricordo che se vi è piaciuta questa intervista e volete seguire il canale, basta iscriversi al canale YouTube Granelli La Serie, alla pagina Instagram Granelli La Serie, fallo anche tu, mi raccomando. Sarà fatto. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento con il Salotto di Granelli. Buona serata. Buona serata.